Ma ci sono 101 economisti italiani, e anche questo è tutto riscontrabile su internet se qualcuno non si fida, che hanno detto non prendete quei soldi perché significa infilarsi in un tunnel di cui fra due o tre anni ci pentiremo perché ci verranno poste delle condizioni che... ...manifesto dei 100 autoproclamati economisti, l'appello di non firmare l'accordo. Perché far finta di essere economisti quando non si è? Metà di questi sono economisti come io sono storico, matematico. Come lo sono io.